Facciamo in una recensione, Topolino 3444 sbarca in edicola con questa bellissima copertina di dipolito che sottolinea il ritorno di Area 15. Guardiamola meglio insieme. Per la prima volta in vita mia posso avverare un sogno che pensavo di non poter realizzare in questi anni ancora, ovvero mettere vicini l'ultimo numero in edicola uscito assieme al primo. Per chi non lo sapesse, Gustavo mi ha regalato anche questo numero, è per me un'emozione unica poter pensare di avere a sinistra l'ultimo uscito in questi giorni 2021 e a destra il primo di aprile 49. Ci sarà modo per parlarne meglio, non di certo oggi. Il fumetto evidenzia il ritorno di Area 15 con una copertina molto bella a cui l'unico dettaglio che non mi è forse andato giù è Paperoka da bambino perché Paperino si vede palesemente che ha quell'aspetto un pochino più fanciullesco. Paperoga semplicemente mi sembra lui stesso miniaturizzato, poteva essere pensato meglio ma mi rendo conto che Paperino ha anche una serie di storie e di bozzetti già da cui far riferimento, ovvero la saga di Paperin Paperotto. Quest'anno per Natale usciranno ben tre gadget, di cui due con il topolino e uno con lo di Paperone. Io prenderò tutti e tre perché sono davvero molto belli, così come acquistai al tempo tutti gli altri di questa serie di gadget natalizi. Bertani elogia una nuova storia che uscirà per il ciclo Paperingio, quel ciclo di storie di Quattro, di Bottaro, Candy e Autelitano che uscì ormai circa 40 anni fa, qui l'ultima 25, e che finalmente Carlo Panaro tornerà in questa impresa con Paperino e il paladino Capapero Magno a continuare quel ciclo, ne parleremo prima io alla fine. Area 15, Amelia, Paperin Pigafetta, Gamba di Legno e Young Donald Duck con protagonista Pippo sono i protagonisti di quest'albo. Ancora Natale, ovviamente si avvicinano sempre di più questa bellissima festa e quindi è giusto anche in qualche modo parlarne nel topo, a livello anche di marketing. 20 anni dopo è la storia di Area 15 di Marco Nucci e Libero Rimetti e io ogni volta che leggo Area 15 penso di leggere la storia più bella della saga. In questo caso mi sono davvero sentito a mio agio, seppur avendo 23 anni, nel leggere questa storia. Penso che Area 15 sono delle poche saghe che può andare bene per qualsiasi età, dal bambino, al ragazzo, all'adulto, all'anziano, al veterano o al lettore casuale. Perché leggendo questa storia finalmente posso dire qualcosa che anch'io ho paura di vivere, ovvero pensare a questo spazio di condivisione prima o poi termini, pensare che il topolino, la nostra grande passione, prima o poi possa finire ed è un po' l'incubo che qui ha. Perché Paperini e Paperoga raccontano ai nipotini che un tempo anche loro avevano un club e che poi però dopo una serie di anni, insomma, crescendo, si è sciolto. Ma non solo loro, persino Gastone si scopre che un tempo era un fumettista o perlomeno amatoriale si dilettava a disegnare e sceneggiare o ancora Pico e Archimede, con solo alcuni degli esempi che al loro tempo, quando erano giovani, avevano un loro club e quindi qui ha paura che crescendo si possa perdere un po' questa magia dell'essere piccoli e di unirsi in questo club appunto Area 15. Ed è un po', ripeto, la mia paura. Perché io tante volte sento e spesso bambini, ragazzini, giovani, lettori che sono super emozionati di condividere, comprare Topolino, poi però passano gli anni e questa passione diventa solamente un ricordo. Anzi, addirittura o tendono a buttare tutto oppure a vendere o lasciare tutto in una mansard, in una libreria a prendere polvere. Non pensate che le passioni, come appunto dice anche qui, non si trasformino. Perché sì, si evolvono, ma l'importante non perderà mai. Io sono convinto che il fumetto Disney vada apprezzato ogni anno che passa. Per quanto, vi ripeto, dal 48-49 ad oggi, le cose sono comune tantissime, io continuo ad apprezzare queste storie. La passione che si ha nel leggere, così come nel condividere un'emozione, un gioco, spero in tutti voi che rimanga. È ovvio che crescendo anch'io ho perso un po' di interesse nel vedermi con amici in queste situazioni, così tutti assembrati, ma rimane quella che è la passione. Ecco, il mio è un discorso un po' contorto, ma veramente vi invito a leggere la storia perché merita assolutamente una storia riflessiva, evocativa, che dà grande ispirazione a me, da 23enne, ma penso soprattutto al ragazzino o anche all'adulto che può ricordare certi eventi da bambino. Grandissima storia. Complimenti a Nucci, ma complimenti anche a Ermetti per i disegni fantastici. Mi piace un sacco per quanto non sopporti molto il colore così a ombre. In questo caso la scelta degli effetti speciali. Davvero spettacolare. E questa è l'intervista a Marco Nucci, nonché anche una serie di redazionali legata alla storia. Davvero interessantissimo. Aria 15 è l'unica forse saga che mi piacerebbe comprare in X Edition, poi però ce li penso e mi chiedo, ne va la pena spendere 30, 40, 50, 60 euro per una storia uscita molto recentemente, solamente in ottimo formato. Onestamente no, ecco. Non mi faccio abbindolare dal consumismo per quanto sia davvero un'ottima saga. Amelia è la numero 1 e il numero 2. Gagnor, Ponti e Soffritti continuano l'avventura. Per fare in modo che Amelia non realisi il suo sogno e un po' mi dispiace, perché Amelia davvero era tanto così vicino nel riuscire a impadronirsi del super amuleto, ma ovviamente siamo in un fumetto Disney, il bene trionfa sempre, e purtroppo per Amelia anche stavolta perde. Ma come viene più volte scritto, effettivamente per la prima volta Amelia si ritrova davvero a un passo alla vittoria. A me mi piacerebbe prima o poi che uscisse una rubrica di storie, una serie, del tipo cosa accadrebbe se Amelia davvero vincesse, o se Gamba di Legno davvero la facesse franca, o se Macchia Nera riuscisse a impadronire nel mondo. Questo tipo di what if, per riuscire a rispondere a queste domande che io da tanto tempo ho, perché tutti vogliamo in qualche modo che Amelia vinca almeno una volta. Poi magari si sveglia un incubo, però vorrei vedere come se la cava una volta che è ricca. Cosa potrebbe mai accadere? Potrebbe desiderare di sfuggire il mondo? Oppure se ne pente? Oppure ancora vuol diventare più ricca? O magari diventa più generosa? Non lo sappiamo, e forse neanche lei lo sa, perché purtroppo ancora non ha mai avuto la possibilità di assodare quel terreno. Con un mese di anticipo, un teaser legato a cronaca di antichi regni che troveremo a fine dicembre sul Topolino. Non ho idea di cosa sia, né tantomeno gli autori che ci siano dentro. Ancora dal mondo Disney la serie di belle foto natalizie. D'altronde è il periodo più magico dell'anno ed è giusto anche promuoverlo. Va per impicafetta oltre i confini del mondo col quarto capitolo Terra. Zemelo e Mottura continuano e terminano con il quarto episodio questa storia, dove i bassotti ancora una volta si mettono tra i piedi l'intraccio dei protagonisti. La storia diciamo che la promuovo fino all'ultimo episodio. Era quello che mi aspettavo che accadesse, ovvero come da storia Magellano non solo passa alle Americhe ma arriva al Pacifico, alle Filippine, fino a esse e insomma l'avventura c'è poi per tornare in Spagna circonnavigando l'Africa forse sarebbe stato meglio creare un quinto episodio per un minimo contestualizzare pure quel passaggio in mare ma ciò non accade. Ripeto, mi piace, non nel mio genere perché le storie di avventure di questo tipo non mi piacciono o meglio non mi interessano non è proprio il mio stile di lettura se dovesse scegliere fra tante. Tutto un po' scontato perché è ovvio che prima o poi c'è la faccia visto che Magellano c'è la fatta e Paperone è il suo alter ego fumettistico. Mi è piaciuto però molto il personaggio appunto dello zio così come quello di Paperino che inizialmente molto arrendevole molto meschino e vigliacco arriva a compiere un'evoluzione arriva a diventare un giramondo e non più quel personaggio deriso da Gastone ma finalmente qualcuno di degno rispetto quindi sono contento per la storia per Paperino e per il suo desiderio di rivalsa che finalmente è arrivato a compimento. Ottime tavole fantastiche meravigliose anche qui alla fine anche se a volte mi chiedo quanto stonino se stonino in effetti questo tipo di tavole di acquerello di oli di opere d'arte assieme a un tratto un pochino più normale perché da un lato queste tavole un po' sono davvero sprecate vicino o dentro il topolino poi mi auguro che sicuramente un giorno uscirà un cartonato dedicato a queste tavole a queste storie secondo me a volte un po' stona a vedere un tratto così repentino ma rimane un ottimo artist a mottura così come un grandissimo sceneggiatore anche Zemelo questo detective box prima o poi lo avrò non so bene quando ma finché non arriverà non posso saperlo Gamba di legno la banda del gruppo è l'ennesima storia di Cali sotto social media Sisti Simeoni e Franzò una storia che in questo caso non mi piace un gamba di legno sempre più imbarazzante che ottenendo il telefono pensa di essere a un passo più vicino da le varie rapine ma in qualche modo viene pure qui trollato viene preso d'anticipo da altri ladri altri furfanti ma insomma nulla davvero di che giusto per essere una riempitiva ci può stare ancora una volta vediamo gli addobbi natalizi Young to the Duck una finanziata per Pippo sedicesimo episodio di Ferrari di Polito e i colori edizioni BD grandissima storia questa mi è piaciuta perché finalmente mette un po' in risalto Pippo un personaggio che mi piace tantissimo che stranamente qualcuno gli va dietro ovvero una certa gloria eccola qui solo che lei non sa come dichiararsi chiederà aiuto a Paperino proveranno un sacco di mesi di strategie ma Pippo appare totalmente disinteressato e la storia mi piace perché per quanto i contesti non sono di mio gradimento tutta questa storia legata ai giovani protagonisti Disney Topi e Paperi uniti senza un filo logico da questa infanzia e adolescenza vissute insieme insomma io presumo siano alle medie superiori massimo non lo so è qualcosa che non mi convince è un episodio sì e due no questo però sì onestamente perché è stato molto scorrevole molto curioso ho veramente adorato il fatto che Pippo finalmente avesse un'ammiratrice anche se la sua motivazione sul perché ami Pippo sul perché piaccia Pippo non è molto ben spiegata sembra un po' un colpo di fulmine ma del resto è piuttosto anche adorabile la relazione che si crea anche se ancora molto in via di sviluppo e questo era il fumetto con le storie velocemente ancora qualche immagine legata ai bambini con Topolino nella speranza ecco avendo letto la storia di Arequindici che questi bambini fra dieci anni arrivino come me a ottenere un'ampia collezione di topi e non che si fermino a queste immagini io me lo auguro ma così come mi auguro che tutti voi ragazzini di 12 13 14 anni e più non si limitano a comprare il topo solo perché lo compro io o solo perché va di moda ma perché davvero piaccia però vedendo quando c'è un discorso troppo futuristico e ognuno poi alla fine è un po' come crede non voglio obbligare nessuno e qui abbiamo un redazionale come anticipavo legato alla nuova storia del ciclo Paperingio di Carlo Panaro che vedremo nel prossimo Albo tra l'altro uscirà anche un cartonato Paperino Paladino che attualmente non ho messo di comprare ma che sicuramente è molto buono perché va a ristampare quattro storie di Bottaro Candy e quell'altro autore che non ricordo mai Autelitano che ricordo sono anche storie piuttosto vecchiotte quindi non così semplici da recuperare e comunque in un bel formato raccolto anche da o lungo almeno dice Boschi e Beccatini apparato redazionale questo c'è che uscirà in edicola a parte Paperino non prenderà niente ma sapete che ormai sul Papero almeno quando uscirà il numero 500 non farò recensioni ancora gli addobbi e questa è la copertina del prossimo volume ovviamente in prima posizione vi è la storia in due episodi sperando anche prima e ultimo insomma per evitare che vada avanti la saga anche nel futuro numero di Paperino e il sito di Paperomagno quello che dicevamo sul ciclo Paperingio Picco dei Paperi Stoppoglioni Origini e nuovamente Amelia davvero mi interessa questa storia infatti è anche relegata in questo piccolo redazionale con Cavazzano al disegno e questo era il fumetto Termina Gagnore Cesarello sono davvero curioso anche di questo teaser che anticipa la storia di Nucci Casti e io quando leggo Casti e negli ultimi tempi Nucci vado matto quindi spero possa uscire una grande storia io presumo sia un po' il continuo di Io sono macchia nera come questa impressione vedremo se sarà così un fumetto che promuovo a pieni voti nulla di eclatante mi è piaciuta molto la storia iniziale vent'anni dopo penso possa essere una delle storie più belle dell'anno ma così come retro gaming e così come tutte quelle storie di Area 15 non sbaglia un colpo Marco Nucci e Ermetti a sua volta neppure al disegno tutto il resto nella media Amelia era scontato finisse così la storia quella su Magellano anche e anche Donald Duck mi è piaciuto un po' per la creatività per originalità e gamba di legno alla fine una ripetiva nulla di che ah tra l'altro il fumetto era legato al calendario ricordo ora ovviamente non ho comprato e che minimamente è stato pubblicizzato visto che solitamente vi è almeno una pagina in cui sponsorizza e promuova il gadget almeno del fumetto in questione ma ciò non è così amen non penso sia doveroso dire altro per oggi è tutto ragazzi e alla prossima ciao ciao